ragazzi scusate non mi si è tolto il video perchè quindi c'ho troppa poca memoria come vi dicevo porco mi sono fottuto non c'è un mini pecca male 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 ok ci parlo dai schermico sia dover sono rimasti faggere no, non è vero non è vero se arrivo con solo torrent non solo non c'è ragazzi che culo il culo comunque vi dicevo per trovare il baule magico o super magico ancora prima che si staccava ho trovato questo comunque per trovare il baule magico o super magico però è molto più evidente trovare il baule magico bene dovrete fare già odio un'api che schifo quanto odio le api quanto odio le api quanto odio allora per trovare una magic chest la super magico chest non è più probabile come vi ripeto trovare la magic chest una magic chest per trovarlo per trovarlo per trovarlo bisogna allora per trovare questo accesso vi dico come se no in ordine di baule esce allora prima c'è il baule argento poi c'è il baule boro poi c'è il baule e poi c'è il baule e poi c'è il baule e poi c'è il baule per riuscire le frecce Un pecca Due mini pecca ragazzi Non può vincere 1.700 euro Ragazzi ci potevi provare Buon reggento Bene Secondo i miei calcoli mi dovrebbe uscire Un altro baule oro E un baule magico Secondo i miei calcoli Perché potrebbe anche uscire Do se vi On nocines Bene buona fortuna non serve Buona fortuna non serve La mettiamo una carta così tanto vero Dai no Non mi dico l'estratore Sono tardi perché Non è vero dai 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 ti rifreggio Ti rifreggio Ti rifreggio Ti rifreggio Vi dicevo Non è vero il live Lasciato lo scontro non ci credo Non ci lascio credere Grazie a Dio Mi serviva Che lasciato lo scontro Mi serviva non so quanto Perché secondo i miei calcoli Adesso un sereno Buona Buona Grazie a tutti.